Nei giorni scorsi a Barga si è tenuto il terzo ultimo World Café del processo partecipativo tutti nella stessa Barga, organizzato per coinvolgere i cittadini nel proporre delle linee di indirizzo da seguire nell'ambito del percorso autorizzativo in corso in regione per il progetto del gasificatore di KME. Era il terzo ed ultimo degli incontri di approfondimento, qui hanno partecipato 80 cittadini, 70 dei quali estratte assorte dalle liste anagrafiche del comune di Barga. L'incontro è stato incentrato sul tema dell'occupazione nel contesto locale. La serata è stata condotta dal coordinatore del processo Matteo Garzella. Per ciascuno dei tre turni di discussione che erano previsti è stata posta una domanda coerente con l'argomento in discussione, alla quale i cittadini partecipanti, riuniti in piccoli gruppi, hanno formulato una risposta. Tutte le risposte, insieme a quelle elaborate nei primi due World Café, andranno a formare le raccomandazioni della comunità locale relative al progetto di realizzazione dell'impianto di gasificatore e saranno consegnate alla regione toscana e all'azienda KME. Gli esiti del processo partecipativo saranno resi noti a tutta la popolazione e alle istituzioni in un incontro pubblico che sarà organizzato nel mese di novembre.